Oggi è una giornata importante per il Cardarelli che inaugura un reparto dedicato ai pazienti affetti da sclerosi multipla. Abbiamo un reparto di neuroimmunologia totalmente dedicato a questa fascia di pazienti. A parlare è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca dopo il taglio del nastro per il nuovo reparto. Ascoltiamo. Diversamente da quello che si immagina abbiamo pazienti in età davvero giovanissime. Abbiamo pazienti di 30 anni, 35 anni. Ovviamente con le cure che si praticano si riesce davvero a cambiare la vita di questi giovani pazienti ma anche dei familiari. Devo dire che è veramente una cosa che fa onore alla sanità campana, al Cardarelli e si sta facendo qualcosa in più. Come abbiamo fatto per l'oncologia stiamo realizzando dei gruppi multidisciplinari che valutano i singoli pazienti. La struttura punta a fornire ai 1500 pazienti già in cura al Cardarelli una diagnosi differenziale in grado di coniugare neurologia ed immunologia. L'obiettivo è quello di una presa in carico globale che consenta di intervenire sempre più tempestivamente sul paziente con sintomi prima che si verifichino ricadute con terapie appropriate basate su consulenze interdisciplinari.